Sta nella febbre elettorale in vista delle prossime elezioni comunali anche nel piccolo comune di Piana di Monteverna, chiamato al voto il prossimo mese di giugno per le elezioni appunto del sindaco del nuovo consiglio comunale. Si parla già di tre liste, l'uscente, pezzi della maggioranza ora in posizione critica che fa riferimento a Carla Massaro e Santro De Francesco e una terza lista già pronta a scendere nell'arena politica senza tentennamenti. Ma perché nasce poi l'idea della sua lista? Lo abbiamo chiesto a Lino Santa Barbara, uno dei literi del gruppo. Per dare un rinnovamento alla nostra comunità, per dare opportunità ai tanti giovani che vorrebbero impegnarsi in politica e naturalmente realizzare dei progetti e dei programmi che possano rilanciare la comunità pianese. Da chi è composta esattamente la lista? Da lì sarà composta? È una lista eterogenea, estrapolata dalla società civile, fatta da professionisti, lavoratori, persone del mondo giovanile della società comune. Quali sono secondo lei almeno tre progetti, tre obiettivi che intendete realizzare e soprattutto per i quali poi vi siete candidati? Gli obiettivi naturalmente possono essere tanti, ridurli a tre oppure raggrupparli in tre macro progetti, potremmo sicuramente citare lo sviluppo dello sport, del tempo libero e della cultura nel nostro territorio e poi anche stare vicino al mondo delle imprese, rilanciare le piccole realtà produttive che vogliono nascere sul nostro territorio e favorire gli insediamenti produttivi, soprattutto quelli di piccola entità che daranno sicuramente maggiore sviluppo e maggiore slancio all'intero comune di Piana di Monteverna. Senta, diciamo la lista è ancora aperta quindi è possibile ad altre persone che possono entrare? Sicuramente, adesso si è in fase di composizione della lista, io sto consolidando il gruppo perché è un gruppo abbastanza folto, fatto di tantissime persone con voglia di fare e da quel gruppo verrà fuori un primo gruppo di liste che possono formare la lista. Poi naturalmente siamo aperti a qualsiasi discorso, siamo aperti a qualsiasi confronto, ci mancherebbe, le elezioni ci vuole ancora un bel poco di tempo e quindi noi siamo pronti per questa tornata elettorale. Senna, proviamo a fare un po' i cattivi, se lei dovesse dare un voto all'amministrazione uscente che voto le darebbe? Ma io in genere voti non ne do perché naturalmente i voti si danno a scuola. Diciamo che non sono soddisfatto dell'amministrazione degli ultimi cinque anni, non posso essere soddisfatto altrimenti non starei qui a candidarmi, quindi sicuramente è una valutazione negativa. Per esempio c'era qualche obiettivo, questa è l'ultima domanda, c'era qualche obiettivo che lei pensava che alla fine potessero realizzare e invece non l'hanno realizzato? Certamente, prima di tutto era quello di mantenere e di far crescere lo sviluppo politico e sociale del territorio, cosa che purtroppo non è avvenuto in questi anni, ma ancora di più l'economia del territorio che siamo veramente ai minimi termini in questi ultimi anni è stata proprio nera. Grazie a tutti.